Waiikuj, ben ritrovati da vostro, andrini crontuno, sono io, Kai Watch, Wibble Wobble Altri spacchettamenti anche oggi, perché come ho detto nello scorso video di Wibble Wobble Avrei fatto anche per il secondo video uno spacchettamento, o meglio, più di uno Ad ogni modo, ho 4 monete per la slot Kai normale e abbastanza i money per 5 giri di slot Kai Oni Quindi insomma, c'è tantissima roba, si può trovare tantissima roba Speriamo di trovare qualcosa di abbastanza succulento Iniziamo, 4 monete, oh, una moneta 5 stelle, se non erro, sì, 5 stelle, felice, misteriosa e una moneta Yokai rosa Vediamo un po', cosa ci dà con la rosa? Iniziamo da quella un pochino più deludente, si può dire Insomma, qualcosa di standard, chi esce, chi esce, blu, Chikalama, ok, Chikalama, sì Mi sembra, eccolo infatti, so per dire che se trovavo un terzo Chikalama saliva l'Energy Max Molto buono, molto buono, andiamo con la misteriosa La misteriosa non so se può davvero uscire qualcosa di interessante Però, uno ci prova intanto Finché ci sono Vediamo un po', oh, blu, oh, il Luguro Non è neanche fatto l'animazione stavolta, è uscito direttamente, c'era voglia Si vede, sarà stufato di stare ad aspettare Va bene, il Luguro non ce l'avevo quindi, un altro Yokai ha aggiunto il Medallium Almeno, sblocco gli obiettivi, le missioni Moneta felice Fammi uscire, fammi essere felice, no? Eh, rossa però, rossa Oh, scarafante Buono, buono, scarafante, buono Ok Se trovassi un altro scarafante Potrei Aumentargli l'Energy Max e magari provare a metterlo in squadra Perché andando avanti diventa sempre più difficile il gioco Poi ci sono delle missioni a tempo davvero interessanti Attenzione Rossa anche questa A scuriflesso Beh, scuriflesso potrebbe essere buono per la missione Per la battaglia al boss che c'è in questo momento A Masterchef Ed ora Cinque giri sulla slot Kai Oni Non dovrebbe caricarmi al massimo tutta quanta la barra della slot Oni Però comunque sia Potrei arrivare quasi Oh, Lucenio Buono, buono, Lucenio Potrei arrivare quasi A coprirla tutta E quindi con un altro paio di giri magari riesco a completarla Non so cosa succede Non so se caricandola Ti dà solo la possibilità di avere Yokai più forti Di trovare roba migliore Oppure quando la carichi tutta ti dà un SS Un S Insomma qualcosa di importante Fra Tosto Ok, si aumenta anche lui l'Energy Max E non so fino a quando dura Oggi è il 25 Probabile che duri fino ad oggi Molto probabile questa cosa Perché l'evento finisce oggi Quindi non so se è la strada dorata L'evento che finisce oggi Però ho visto gli obiettivi da sbloccare Quando accedi al gioco E praticamente Finisce oggi Penso che sia anche l'evento con KanKan Che finisce oggi Mamma Aura Mamma Aura potrebbe essere buona come generosa Io avevo far Favigo come curatore Nella scorsa run Run tra virgolette Perché un gioco così non è che si fanno le run Ad ogni modo Quarto giro No, questo è il quarto, sì Questo è il quarto giro Vediamo un po' Robo Oh Hey hey Robo K Accidenti Sì Robo K Perché saranno finiti probabilmente Spazio per le lettere Come succede in Pokémon V3 Bell Non ha una L Perché sarà finito lo spazio I fischi italiani Più che altri inglesi Non gli italiani È colpa degli inglesi Che hanno voluto mettere massimo nove lettere Bene Andiamo con l'ultimo Dai Un rosso Attenzione Speravo in qualcosa di meglio Però rosso Maskele Bell Non lo so Non l'ho mai usata In Wibble Wobble Potrebbe anche rivelarsi utile Perché comunque sia di io Che sono molto diversi Da quelli del gioco Ad ogni modo Dovrei aver sbloccato una moneta Negli obiettivi Quindi Vado un attimo a vedere Nelle missioni Cosa ho sbloccato Perché se c'è la moneta Ragazzi È alla grande Vediamo Sono ottenuto dieci volte Ok Ok Dai Dammi 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 Moneta felice Perfetto Perfetto Moneta felice Andiamo a usare allora anche la moneta felice Vabbè l'altra missione si aspetta Inserisci una moneta Dammi qualcosa di Fammi essere felice T'ho detto prima Non l'hai fatto Fammi essere felice ora Anche a metà Anche a metà felice E Scarafante Scarafante Beh A metà sono felice Perché Penso che lo userò E l'Energy Maxal 2 Non è indifferente Su Scarafante Ad ogni modo Per oggi termina l'episodio Di Yokei Watch Wibble Wobble Io come sempre Vi ringrazio Per averlo seguito In descrizione Come sempre Trovate il link Per Twitter E anche per Instagram Se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi Ci vediamo domani Con un nuovo video Bye bye